Marco, LeonTech la seconda volta con Investing, ora qui a Investing Napoli dopo Roma e quali sono le tue impressioni di questa giornata? Sempre molto positive, l'evento è sicuramente di grande impatto, molti partecipanti per cui estremamente contenti e quindi anche come a Roma e sicuramente ritorneremo e riparteciperemo anche in futuro. Qualche news per il 2018? Sì, brevemente abbiamo in programma sul rinnovo del prospetto a giugno di inserire una nuova versione del nostro emittente, quindi non solamente LeonTech, ma presenteremo anche LeonTech completamente collateralizzato dal rischio emittente.